Come un posto sui social, il fisico Luca Gammaitoni, docente all'Università degli Studi di Perugia, ha dichiarato che l'Umbria è pronta ad uscire dalla quarta ondata Covid. La curva dei contagi, si tratta della curva rossa indicata in alto dal fisico Gammaitoni, come era già stato anticipato due settimane fa, ha detto, sembra aver raggiunto un punto di massimo. Se questo comportamento verrà confermato, allora ci avvieremo alla fine della quarta ondata. Un'ondata caratterizzata da un basso numero di pazienti ospedalizzati e un basso numero di terapie intensive occupate. Il merito, aggiunge Gammaitoni, è senza alcun dubbio della campagna vaccinale. Se vogliamo evitare una possibile quinta ondata, continua il fisico, dobbiamo insistere sulla necessità di vaccinare quante più persone possibile. Solo così si sottraggono persone a rischio di ospedalizzazione. Vaccinarsi non necessariamente ci protegge dall'entrare a contatto con il virus, ha spiegato Gammaitoni, ma sicuramente ci protegge dalle sue conseguenze più gravi.